I comuni di Montelabate e di Vallefoglia non si uniranno. A far tramontare ogni ipotesi intavolata da tempo è la stessa giunta della sindaca Ferri che ieri sera attraverso un comunicato stampa ha bocciato il progetto, considerando l'assenza di presupposti che consentivano di percorrere questo percorso di fusione. Delle differenze gestionali che separano ulteriormente Montelabate da Vallefoglia dopo l'uscita nel 2017 dall'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo. Fondersi con i comuni di Vallefoglia è stata anni fa una richiesta che lo stesso Comune di Montelabate aveva inoltrato. E questo passo indietro il sindaco Cucchielli l'ha definito come un chiaro errore e un'enorme opportunità persa. Le fusioni vanno fatte a prescindere perché portano risorse per i cittadini. Se uno pensa solo alle poltrone diventa un problema. Se uno pensa invece al bene dei cittadini, noi con le risorse delle fusioni avevano fatto un'infinità di cose. Pesero con Montecicardo oggi ha risorse per fare tutto quello che serva a Montecicardo che era pieno di debiti e non poteva fare nulla. Penso che su Montelabate sia un errore per i cittadini di Montelabate perché da una fusione o con noi o con un altro Comune avrebbero risorse per fare tante cose che valuteranno i cittadini di Montelabate. Cosa pensano? Io penso che la stragrandissima maggioranza probabilmente sarebbe d'accordo a fare la fusione. Penso che i cittadini farebbero bene a raccogliere le firme per fare una fusione con chi ritengono opportuno loro e che ovviamente questo significa portare tante risorse a Montelabate e a sentire la gente. Se la gente è d'accordo si fa, se no si rimane così com'è. Anche perché, voglio dire, così uno fa solo l'ordinaria amministrazione se non fa le fusioni. Se fa le fusioni fa tante cose per i cittadini. Io preferisco che si faccia le cose per i cittadini.